E Bee Gees con Tragedy alle 8 e 10 minuti in questo istante qui su Crystal Radio. Good Morning Milano, mercoledì 10 gennaio. Sono appunto le 8 e 10 e ci ha già raggiunto un ospite di giornata. Sono contentissimo di averla qui con noi, Erika Olaia Andrade. Eccoti qua Erika, buongiorno e benvenuta a Good Morning Milano. Grazie Fabio e Good Morning Milano. Allora Erika, oggi parliamo di un tema molto interessante e molto importante. Tutto nasce dal Covid, diciamo, e parleremo di Long Covid. Però faccio spieghermi a te che cos'è il Long Covid. Allora, il Long Covid non è il nome di una nuova patologia. Il Long Covid è un contenitore di tante patologie dovute all'infezione da Covid. E quindi non c'è solo un tipo di Covid. Per esempio, io soffro da quasi 4 anni, sono 1380 passaggiorni che ho i sintomi. Del mio Covid, che è diventato un Long Covid, con problemi neurologici. Ok. Neurologici, scusa. E quindi c'è gente che purtroppo ha un altro tipo di Long Covid, perché ha problemi di cuore, di coagulazione. Quindi in ognuno di noi si è rivelato in una maniera diversa. E questo è già uno dei primi dati che rende anche difficile poi gestire questa situazione, perché non tutti i Long Covid sono uguali. Cioè, il Covid lascia dei strascichi su alcune persone di più, su altre di meno, su alcune molto come te, ma magari in maniera diversa che da altre persone ancora. Sì. Infatti hai detto una cosa importante, è molto difficile da seguire, da diagnosticare, perché io ancora dopo 4 anni devo fare anche tante analisi, perché si sovrappongono i sintomi. Quindi prima pensavano che la mia era una fibromalgia da post-Covid, e invece un reumatologo ha detto, no, questo è un Long Covid, e i tuoi problemi sono di un'altra natura. Però purtroppo io sento i miei compagni di merenda, purtroppo, per chiamarle così, tutte le altre persone affette, perché ci sono al mondo mille gruppi. Io sono su quello italiano, che ha più di 60.000 iscritti. In America anche i gruppi, immaginate anche le cifre lì. È scandaloso, si pensa che ci sono cento persone, milioni di persone affette al mondo. Cento milioni. E pensa che non c'è la conoscenza di questa malattia, c'è un gaslighting molto, molto forte. Io ancora, il mio medico di base, l'ho cambiato ieri, fa fatica a credere e non credere anche, ci sono dei referti da neurologi. Io, per esempio, ho preso parte da poco, sono arrivata a un gruppo di ricerca, un trial. Infatti, ma noi parliamo perché per alcuni medici che fanno fatica a crederci, per fortuna ci sono quelli che invece ci credono e cercano di trovare una soluzione. Tu hai incontrato il Covid nel marzo del 2020. Una delle prime. Sì, delle prime casute. Cosa dire lo che sfiga. E per quattro mesi sei rimasta positiva. Sì. Guarda, non posso dire per sfiga, perché purtroppo il mio esattore di lavoro non è stato corretto, non ha rispettato le linee guida del lockdown, che partiva il 9 marzo, tutti chiusi in casa. Io sono stata costretta ad andare fino al 16 in ufficio. Io non sono un lavoratore essenziale. E quindi loro hanno giocato con la vita di tutti noi, perché sarò stata mica l'unica contagiata. Non c'erano le misure efficaci. Ci chiedevano all'ingresso dell'ufficio di metterci il fulardo, la sciarpa a modo di burka per parlare al telefono. Io facevo un part time di 30 ore, immagina 6 ore al giorno con il burka a parlare al telefono. Quindi queste erano le norme di sicurezza. Ecco, questo è il tema. Nel senso che appunto marzo 2020 nessuno sapeva niente. Forse bisognava stare un po' più attenti alle richieste che venivano fatte dall'alto. Nel senso, chiudiamoci in casa e non andiamo in giro. Ma ne parliamo fra pochissimo. Adesso un po' di musica. Annalisa con Movimento Lento insieme a Federico Rossi. Annalisa, Movimento Lento insieme a Federico Rossi. Siamo qui con Erika Olaia appunto per parlare di Long Covid. E dicevamo che insomma alcuni medici fanno fatica a capire, a comprendere e a crederci anche. C'è chi si vanta di non sapere. Perché mi è capitato di aspettare un anno per una visita. E sulla impegnativa c'è... L'urgenza? Non solo l'urgenza, il quesito. Fatica cronica da post-Covid. Poi arriva il dolore cronico da post-Covid. E poi ti dicono, io non ne so niente, non ne voglio sapere, no. Quindi c'è il negazionismo dell'on-Covid. Invece c'è chi per fortuna ci crede e anzi lo sta studiando. O meglio, anzi, che forse qui non è crederci o non crederci, è andare a fondo delle cose. Capire che cosa c'è sotto, no? Qualche medico lo sta facendo e tu al punto sei inserito in un trial medico a Roma. E' molto complesso, perché per andare a fondo... Allora, c'è una parte che si sa in modo storico qual è l'impatto di un virus e un'infezione sul corpo. E noi non siamo stati seguiti bene, perché tutti facevano, no, ma lei si deve riposare, ma è stato un... Cioè, tutte scuse così. E tu dici, quella parte di realtà, qualsiasi virus può portare a quella roba lì? Sì, quando tutti perdevano l'olfatto o il gusto. Io poi ho scoperto che per una neumonia c'era gente che 10-15 anni fa l'ha perso. Quindi io ero in assolamento quattro mesi fra tre settimane senza nessuna cura a casa. Avevo la polmonite bilaterale interstiziale. Tre settimane in queste condizioni, perché mio medico di base non credeva che avevo il covid, non mi permetteva di fare un tampone, né potevo andare spontaneamente all'ospedale perché c'era il lockdown. E se non lo faceva la richiesta al medico di base, tu non potevi andare. Quindi io tre settimane lì lasciata a morire da sola a casa, poi mi sono fatta 20 giorni di ospedale e poi due mesi e mezzo di hotel covid. Come è stata l'esperienza dell'hotel covid? Allora, prima c'è la felicità di uscire dall'ospedale perché ero molto provata. Io non avevo mai condiviso una camera con qualcuno che non fosse stato della mia famiglia. erano persone oltre noventeni, ottanteni, due persone in camera che sono state la maggior parte del tempo così, che avevano problemi o di Alzheimer e quindi io non ho chiuso un occhio in questi 20 giorni perché urlavano, piangevano, chiamavano ovviamente i parenti. Quindi era, cioè io mi farei altri mille covid, 20 giorni con persone in queste condizioni era troppo. Tutto poi nell'isolamento, quindi non potendo vedere fuori, potendo sentire basta qualcuno, ma insomma con tutto quello che comportava, con la paura delle maschere, dei famosi caschi, insomma una situazione complicata. Sì, sono andata in un'ambulanza, mica che ho potuto fare la valigia per andare all'ospedale, quindi già qualcuno che c'era il lockdown mi ha fatto la scappatella per portarmi i vestiti, mi hanno fatto le schiscette, chi poteva, qualcuno ha cucinato del cibo colombiano per me, ma così tutto un po'... Fai da te. Sì, e con molta difficoltà perché la gente anche per andarmi a fare una spesa si doveva fare la fila, come tutti, e quindi dicevano ti posso portare qualcosa quando io andrò, perché il cibo mancava molto. Immagino, immagino. L'hotel invece, dove dove sei stato? In che hotel? L'hotel Michelangelo che non esiste più perché è stato... Da quello vicino a stazione centrale, no? Demolito, sì, proprio davanti a stazione centrale. Per me è stata una cosa positiva nel senso che dopo l'ospedale poter avere una stanza per te da sola, farsi la doccia nella mia stanza dell'ospedale non si poteva fare la doccia, le docci erano fuori. Mamma mia. Era un padiglione ortopedico perché tutto arrangiato così per il covid e quindi si poteva uscire a fare la doccia, ma noi eravamo impestati e non potevamo abbandonare la stanza. Quindi questo ti sembrava, non ti sembrava vero. Perché non è che in hotel potevi andare chissà dove, in hotel non potevi comunque lasciare la stanza, giusto? No, nessuno poteva entrare. Nonostante questo è stato quasi salvifico per te, nel senso dopo l'esperienza dell'ospedale. È stato, le persone che ci hanno seguito sono state molto carine, molto disponibili, ci portavano il pasto davanti alla porta e noi poi dovevamo lasciare fuori la spazzatura, nessuno poteva entrare in camera, noi dovevamo fare il letto, fare le pulizie, ci consegnavano i prodotti per le pulizie. Quindi quello è stato certo una salvezza, ma già lì io mi rendevo conto che se io provavo a fare il letto mi dovevo di nuovo rimettere a dormire, perché la fatica era, però dicevo sono positiva, sarà quello, no? Tu pensi? Quando è che hai iniziato ad avere il dubbio che non fosse solo quello? Perché dopo due mesi e mezzo io non mi negativizzavo. Cioè tu dopo due mesi e mezzo eri ancora positiva, non eri solo stanca? No. Non avevi solo mal di testa, non avevi perso il fatto cosa? Tu facevi un tampone e risultavi positiva. Guarda, il Covid proprio ti fa perdere la tua natura, non ti riconosci più. Chiaro. E quindi tutte queste cose erano strane per me, ma già lì nell'hotel io vedevo che era, non mi sarei ripresa così facilmente, ma non a questo livello che stiamo oggi. Perché quando tu sei costretto, letto, bagno e io ho vissuto in una stanza quattro mesi, il giorno che io ho lasciato l'hotel Covid, pensate che io sono andata col piumone, le dottor Martins, perché si pensava di dover dormire nella corsia, no? Perché qui non c'erano letti. Io sono tornata il 2 luglio a casa. Insomma, un po' diverso. Erika, la situazione deve essere stata veramente complicata. Hai avuto modo però di conoscerti bene e soprattutto di capire quanto tutto questo ti stava cambiando. Quando tutto questo ti ha fatto perdere il lavoro, prima di tutto, sappiamo benissimo che è stata la prima conseguenza da quella, ma anche proprio cambiare tu. Cioè, come tu dici se non sono più quella di prima. Non sono più io. Non sono più io. No, tu dici sempre così. Io non sono più io. Non sono più io, infatti. Tu usi sempre questo... Guarda, quando si diceva a marzo non si sapeva molto del long Covid, però si sapeva che poteva causare la morte, per quello non ho fatto un lockdown. Il mio exattore di lavoro non ha rispettato questo lockdown. Quindi io non rimpiango il lavoro che ho perso. Capirai se voglio stare in un posto così. Ma mi ha fatto perdere la capacità di lavorare, di condividere con la mia famiglia. Io per anni sono tornata solo in Colombia, dopo tutto questo patatrack l'anno scorso. Sì, sì, sì. Quindi, anche se è isolato, per me il lockdown e per chi soffre di long Covid, il lockdown non è finito il giorno che è stato interrotto. Perché io sono spesso a casa mia, già ci sono quattro piani da fare. Quindi, d'estate, il giorno che stai molto male, buttare la spazzatura è un dramma. Ma tutto questo però non è solo un dramma, appunto, lo è quasi quotidianamente, ma per fortuna una speranza c'è. Ne parliamo fra pochissimo, ne parliamo fra poco, appena torniamo qui in diretta, perché appunto un trial c'è, sei scritto a questo trial e qualcosa speriamo che venga fuori o comunque si possa indagare sempre di più in questa direzione. Francesca Michelin, solite chiacchiere, 8 e 32 minuti, Crystal Radio, 3317853555. Ricordatevi il nostro numero di Whatsapp a cui potete scriverci e magari fare anche qualche domanda a Erika, raccontarci se per caso anche voi avete storie simili, avete sentito di qualcuno che questo maledetto long covid ha reso una persona diversa, appunto non sono più io, dice sempre tu Erika, no? Per fortuna dicevamo, se da una parte ci sono dei medici che insomma fanno fatica ad aggiornarsi, a essere sul pezzo, come così in maniera edulcorata lo diciamo, ci sono altri che invece ci stanno indagando e appunto c'è un trial all'ospedale Gemelli di Roma, ci sono altre strutture private a Bologna, vicino a Bologna, adesso non ricordo il nome delle strutture, no Bologna no, scusate Modena, ci sono altre cinque strutture, io faccio parte dell'associazione Long Covid Italia e questo trial è stato presentato alla nostra associazione e così che io ho scoperto cosa stava succedendo e quindi però è un lavoro congiunto dei medici che si interessano per dare qualità di vita alle persone e anche della ricerca, perché quello che ti dicevo prima una parte è storicamente sapere l'impatto di virus e di infezioni sul corpo, l'impatto che ha, questa è una cosa che già sappiamo in un certo senso, è stato studiato, da quello storico si può prendere insegnamento. Ovvio c'era diciamo un 50% però pensa che questo virus è diavolico, c'è un po' di HIV, c'è un po' di tutto il peggio di questo mondo, se ci volevano rovinare. Avevano dei sintomi di giocare. Sì, anche di simiglia, di somiglianza, e quindi la ricerca sapete che è sempre zopica, no? E quindi ci sono per esempio in Europa questo trial è di Geneuro, sono svizzeri loro, abbiamo noi questa opportunità e ce l'ha la Spagna. E quindi loro hanno individuato una proteina che è quella che causa la sclerosi multipla e ogni tipo di decadimento cognitivo. E io ho avuto la fortuna di poter fare questo test a settembre per capire se il covid l'aveva attivata in me. Pensate che quando una persona soffre un'infezione forte o ha un virus, no? che gli causa questo danno, lo dirò con le mie parole, non sarò molto scientifica. Diciamo che non siamo nessuno dei due medico, ma tutto quello che ricerca poi in realtà sui tuoi social, sui tuoi siti, così vai a mettere anche le fonti mediche, visto? Quindi insomma potete poi andare a indagare meglio. È importante che la gente sappia che è appoggiato tutto da una ricerca. Quindi quando il corpo ha questo impatto del virus o dell'infezione, il sistema immunitario cosa fa? Deve aggredire per eliminare il virus, l'infezione. Ma in questa lotta si crea la tempesta citochimica e questa tossicità, per quello che noi sembriamo tipo avvelenati, non siamo efficienti per quello, perché questa tossicità ti fa perdere i capelli, ti crea un sacco di patologie e disturbi, ma cosa fa? Crea delle proteine che nuociono la salute, come la spike 19 o come questo retrovirus a cui io sono testata. Diciamo che ad esempio una di queste proteine è la stessa che si attiva quando uno ha la asma, la sclerosi multipla, si chiama retrovirus Herb, e io ho fatto questo test e solo così si poteva accedere al trial, alla sperimentazione, ma pensa che si possono creare fino a 30 tipi di proteine diverse e non ci sono i biomarker per individuarle. E soprattutto queste proteine quando si innestrano, appunto, innestrano poi una sorta di sintomi che sarebbero riconoscibili ad altre patologie e quindi poi ovviamente i medici non sanno da che parte andare e questo trial speriamo che possa portare a capire meglio questa mappa così complessa di tutti questi sintomi che voi avete e ricordiamo che poi tu, Erika, puoi avere, un'altra persona con un covid può averne altri e un'altra ancora, poi ne altre ancora. Ed è quello il problema, perché manca la ricerca per creare questi biomarker. In Italia non si poteva fare il test che io ho fatto ematico, hanno mandato il mio campione a Toulouse. E quindi pensa che è una super fortuna quando io racconto questo sui miei gruppi, tutta la gente mi chiede ma dove la posso fare, io vorrei farla e ti senti quasi in colpa a dire no, guarda il mio campione è stato spedito in Francia e normalmente questi analisi così specifici li fanno in Germania, in Svizzera, ma la persona comune e tutte queste cose sono al di fuori della nostra portata. Pensa te, io neanche la posso lavorare e quindi... Tu dicevi c'è anche un'associazione appunto che avete fondato, in cui fai parte... Io sono cofondatrice a un anno, siamo a un anno dalla fondazione, ma si fa molta fatica a portarla avanti perché tutti stiamo male e quindi non si può fare, non si possono fare le cose al ritmo che noi vorremmo e abbiamo bisogno. Quindi al ritmo delle persone che non sono efficienti si portano avanti le cose, però ho una grande missione, l'associazione è nata, la fondatrice è stata, l'ha desiderata giustamente Morena Colombi che è lei che ha creato il primo gruppo Facebook in Italia e infatti abbiamo più di 60.000 follower e giustamente per poter avere dei risultati c'era la necessità di creare un'associazione. Anch'io nel mio piccolo, nel 22, durante la Design Week, ho presentato la mia iniziativa inclusiva che si chiama Non Sono Più Io perché io sono diventata attivista digitale. Ecco, un altro di quei problemi che tu spesso racconti è il fatto di non sembrare malati. Adesso vi invito a collegarvi con Milano Gliuso, a rivedere poi sui social questi momenti, qui di fianco a me è una bellissima donna in piena salute a vederti così e dice questo è uno dei grossi problemi, nel senso che poi la gente non ci prende sul serio in un certo senso, no? Tantissimo magari c'è chi scrivi. Dopodiché meno male che non si vede, c'è come dire. Oddio, uno non sa cosa è meglio o peggio perché la gente, io per esempio purtroppo la gente mi vede così ma io ho delle... Sempre molto elegante soprattutto devo dire, molto di stile devo dire Erika. Oddio, con il poco contatto che puoi avere con le persone magari ti impegni un attimo, sono sempre in tutta casa. Poi dicevi è proprio un problema questo però. È certo perché secondo me è anche una cosa... Purtroppo la gente non è preparata per accettare la malattia altrui, quindi io avevo... Io ancora soffro di alopecia e forse è diventata areata, quindi quello che cade non ricrescerà più. Io ho perso tutti i capelli, quindi io ancora ho la pelata, io ho i capelli ricci e quando sono in pubblico certo cerco di non far vedere però io ho preso 10 kg in assolamento, ero gonfia, ho perso la massa muscolare. Perso? 10 kg è perso la massa muscolare, quindi hai un corpo che non ha forma, è una cosa così perché in assolamento 4 mesi immagina era una forma fisica terribile e cioè neanche così ci sono... Forma fisica che non puoi fare molto per rimettere in piedi perché appunto immagino che tu nella palestra non potresti fare più di un minuto e mezzo di roba. Io sono snella adesso agli occhi delle persone perché tipo nei primi due anni avrò perso 5 kg, poi nell'ultimo anno e mezzo e sono miracolata per questo. Ovvio io mi impegno nel mio piccolo in fare però c'è chi neanche se può impegnare perché per esempio ci sono tante persone che soffrono di obesità, sono stati colpiti particolarmente dal covid e poi soffrono un gaslighting terribile perché le dicono no tu stai male perché sei obeso e non sono curati che è una cattiveria terribile e intralciare il percorso di guarigione di una persona, per esempio pensate in America, la loro popolazione ha questa tendenza purtroppo per lo stile di vita e io vedo le testimonianze delle persone del mio gruppo americano e ti spezza il cuore. Beh guarda chiarissimo, poi su quel tema lì ci sarebbe dovuto aprire un capitolo sul fatto dell'andare da un medico che ti venga detto ma è ovvio lì è obeso e quindi ne so qualcosa ne so qualcosa poi scoprire che magari le cause erano altre, l'obesità in quel caso non c'entrava, obesità che andrebbe comunque curata si sa, non è così semplice, è una malattia forse non solo fisica mi viene da dire, perché molto probabilmente se io sono così ciccio forse lo devo anche un po' a quello che ho nella testa mi viene da dire. Ma va bene andiamo avanti, continuiamo con i Maleskin insieme a Valentine qui alle 8.41 su Crystal Radio. Maleskin, Valentine, 8.45 minuti, continuiamo a parlare con Eric, appunto abbiamo parlato del tale, abbiamo parlato di cosa significa avere il long covid ed essere appunto vittima di questa tragedia mi viene da dire proprio tutti gli effetti, tutto questo ha anche delle ripercussioni economiche non da poco ed è per questo anche che tu hai aperto una campagna di raccolta fondi, giusto? Sì, io sono stata costretta a aprire una raccolta fondi perché purtroppo il mio esattore di lavoro non ha voluto fare la denuncia dell'infortunio, lo ha fatto dopo nove mesi che mi avevano chiuso le pratiche con l'Inail, il sindacato non è stato efficiente, non ha fatto bene i ricorsi, io a questo punto dovrei fare la causa l'Inail ma ci vogliono consulenze medico-legali che non sono alla portata di una persona che non lavora. Ho chiesto anche come si chiama il gratuito patrocinio, a Milano non si trova nessuno che lo vuole fare volentieri, sono capitata a Brugherio ma in un anno il mio legale non ha fatto assolutamente niente, neanche quando le ho imbeato la risetta nel 2022 mi ha risposto. La cosa che prima in fuori onda mi dicevi è che tu ti sei trovata a dover fare questa, tu magari non sei neanche contenta di dover fare questa raccolta fondi in un certo senso, ma hai scoperto che c'è chi deve fare di peggio, cioè fare una raccolta fondi per? Io adesso lo faccio con un altro spirito, ma la decisione non è stata facile perché io da quando sono una ragazzina che lavoro, vivo in Italia dal 1996, studiato, lavorato, non sono la figlia di papà né la fidanzata di qualcuno, ho sempre, mi piace lavorare, adoro lavorare, mi manca il mio lavoro, quindi il non avere l'autonomia di pagare la tua bolletta della luce, il medico per cercare di stare bene e i medicinali che ti servono è molto frustrante perché qualcuno ha giocato con la tua vita, no? Quindi poi potevi fare la denuncia all'Inail, no? Perché paga poi l'Inail, non pagavi te, quindi invece riducono a una persona in questa condizione, no? Perché c'è una cultura di scaricavarili dell'istituzione da far paura perché Inail dice che è un caso IMS, IMS dice il contrario e tu mentre crepi, perché se non hai i mezzi per andare avanti, che hai delle discapacità, come fai? Però poi devi superare questa cosa perché io sono una persona che può apportare tantissimo alla mia comunità, la mia famiglia, i miei amici. Però la comunità è interessante perché ormai appunto non siete più, non sei più da sola, Erika, a lottare un po' sì, un po' in me troppo solo a volte, per fortuna però c'è una comunità anche. Siamo in tanti che vorremmo lottare, ogni giorno non siamo in grado, tanti non sono... Non siamo in grado, questo è interessante. Non siamo purtroppo con molta tristezza, lo dico. C'è che proprio non non può farlo perché è stato magari intuato e non può più parlare. E questo è molto difficile da accettare, molto triste, scusate. Ci mancherebbe, ci mancherebbe, ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Ci mancherebbe, capisco, insomma, il tema non è semplice. Questa cosa, ti dice, non riesce neanche a lottare per i tuoi diritti, perché parliamo di diritti umani, ragazzi, io ho diritto a vivere sana, felice, come tutti, io. Come possiamo se vogliamo dare una mano? Guarda, ci sono tanti modi di dare una mano, con gentilezza, con le persone che magari, come me, tu dici, ma questa come mai chiede l'invalidità, ma andassi a lavorare? Questa non vuole fare nulla. Io, fortunatamente, si sta al web, se qualcuno mette il mio nome su Google, vede... Erika Colcicappa, e ve lo dico perché lo cerca. E vede il mio lavorato. Ok. No? Quindi io ero una designer, artigiano, ho lavorato nella comunicazione, moda. Fortunatamente ringrazio i giornalisti, la stampa italiana, hanno sempre apprezzato il mio lavoro, lo hanno sopportato e lo hanno condiviso. Grazie al cielo, perché se no, poi sembra che sei una che non ha voluto fare niente, è arrivata una certa tale, deve chiedere la carità o non lo so, è così. Quindi la gentilezza, non giudicare, capire che le persone, anche le malattie che noi, le patologie che noi abbiamo, non sono facili di diagnosticare, i sintomi si manifestano ogni volta in un modo diverso. Quindi bisogna credere alle persone, perché io mi ritrovo in questa situazione, perché il mio medico di base non mi ha creduto, mi ha lasciato a casa senza assistenza medica per tre settimane, e mi hanno detto diversi medici, tu ti sei giocata le difese immunitarie della tua vita, e per quello che hai avuto una positività così lunga, e tu non riesci a riprenderti, non hai un sistema immunitario efficiente. Questo è successo, perché qualcuno non mi ha creduto, quindi alla gente bisogna crederli. Eh sì, non è, non è, spesso la lancia a favore a chi non crede, non è facile questo periodo, tra intelligenza artificiale, fake news, gruppi di pazzi che vanno in giro a dire che a terra è piatta, non è facile. Però, davvero, cercate di indagare meglio le cose, cercate di approfondirle. Su Erika si trova tanto, tanto, tanto materiale in rete, anche su giornali importanti, su giornalisti importanti che hanno scritto di te, quindi, insomma, un po' di autorevolezza anche su chi ha raccontato la tua storia, si può dare, si può avere, quindi, insomma, fidatevi delle fonti certe, fonti che spessamente tu, Erika, appunto, ripeto, per l'ennesima volta, perché è importante, vai a raccontare le fonti, cioè quello che tu ci stai dicendo quest'oggi ha delle fonti scientifiche sotto. Ma chiedetevi voi, no? Allora, io avevo 43 anni quando mi sono ammalata, mi sono contagiata. Fortunatamente io ho lavorato in realtà che mi hanno permesso di viaggiare, viaggiavo in tutta Italia per lavoro nelle città più vele, andavo a New York, a Londra, una volta al mese a Londra, spesso a New York, ho girato in Spagna anche per lavoro, tutto quanto, quindi mi divertivo, viaggiavo, condivido il tempo con i miei amici, perché io un giorno mi sveglio e non voglio più vivere e fare questo, e voglio chiedere l'imbaldità civile e stare lì a cozzare a casa mia, cioè, scusate. Fatemi questa domanda, datemi la risposta e capire che, appunto, questo è quello che ha reso Erika, non sono più io, come dici te, appunto, Erika, questo è quello che il Long Covid ti ha fatto, e speriamo di poterti, appunto, aver aiutato un piccolino, piccolo passo anche oggi, avendo raccontato la tua storia. Erika, grazie mille davvero di essere venuta qui con noi a Godbone Milano. Grazie, è l'invito. Grazie mille. Andiamo avanti con un po' di musica adesso e poi ci ritroviamo qui per i saluti. e cercate Erika Colcicappa o Laia, O-L-A-Y-A. Cercatela sui social, cercatela su internet, la sua storia è lì che vi aspetta. Non sono più io, come dice lei, e invece allora ti dedichiamo un po' di musica, un po' di musica per svegliarci, un po' di musica per passare la mattinata insieme, in compagnia di Crystal Radio, qui a Godbone Milano. Grazie mille.